La magistratura ha il diritto di commentare le leggi sotto il profilo tecnico, ma la politica non deve rinunciare al suo ruolo, anche perché ha un mandato che secondo la Costituzione deriva dal popolo. Questo è il messaggio lanciato dal ministro della giustizia Carlo Nordio in un'intervista rilasciata sulla polemica che si è innescata con l'Associazione Nazionale Magistrati. Nordio, che sollecita una giustizia rapida ed equa, ha anche sottolineato di rifiutarsi di pensare a magistrati che vogliono interferire nell'azione governativa attraverso azioni giudiziarie.